La carbonara, gli alimenti della carbonara eccoli ce li abbiamo tutti qui davanti, ovviamente le uova, il pecorino romano e il guanciale e non la pancetta, c'è una bella differenza perché la pancetta fa parte della pancia e il guanciale è proprio la guancia del maiale, i componenti del grasso sono diversi e è diverso il rapporto fra il grasso e il magro. Se noi andiamo a vedere il guanciale, vediamo che ha una parte grassa, una parte magra, venata e una parte grassa sopra, allora questo grasso è più morbido, questo grasso è più duro.